per la rubrica gli immancabili parliamo dei colori pebeo purtroppo non ho mai provato la linea per pelle della pebeo ma ho provato quella per tessuti e devo dire che li amo ma ecco gli immancabili numero uno i pennarelli sì lo so alcuni di voi diranno aiuto l'elena impazzita ma vi posso assicurare che usati in concomitanza con i colori stesi a pennello il risultato sarà bellissimo e vi aiuterà un sacco con le sfumature numero due la linea seta color con la loro consistenza morbida una volta asciutti sono veramente validi se voglio dipingere delle t-shirt o dei tessuti leggeri se queste informazioni ti sono state utili ricordati di seguirmi di salvare rila per avere sempre a portata di mano la vostra guida da customizer e se invece volete ricevere il link dei prodotti che vi ho mostrato scrivete sotto commentate con pebeo e ve li mando in dm ciao e alla prossima